Guarda, sono proprio indeciso, sai. Non so mica che macchina comprarvi. Sono decisioni tremende quella lì, eh. Sì, l'ultima volta che ero in bilico tra l'affetta a turbo e il BMW iniezione, sono entrato in paranoia. E poi esce per Mercedes. Ah, sì, guarda, sono proprio d'accordo. Altra categoria. Cambiar caro è una scelta di vita, bellissima. Ivana, andiamo a pattinare. Eh, sì. Voi venite? Senz'altro, ma ti pare che uno vieni in montagna a pattinare. Ma la libidina è qui, amore. Sole, whisky, simple position. Andate avanti voi, dai che raggiungiamo poi. Vai, vai.